buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un mandrino universale che può portare punte da un millimetro a 6 mm vediamo quando lo stiamo chiudendo per portare punte molto piccole da un millimetro mentre quando è aperto completamente si possono montare punte da 6 mm è possibile utilizzarlo su un avvitatore perché l'attacco l'innesto è esagonale oppure con il filetto m8 passo del filetto m8 quindi abbiamo un mandrino universale per portare punte anche frese che abbiano un diametro da un millimetro a 6 mm ecco qui vediamo il filetto passo m8 grazie e se volete iscrivetevi al nostro canale buona giornata grazie ancora